Che prima di tutto qua avete Paolo Truzzo, avete una persona che è orgogliosa di essere nata e vissuta a Cagliari, che si sente orgogliosamente cagliaritano, ma che sa benissimo quali sono le sue origini, che sa benissimo dove sono le sue radici. E lo dico perché questo significa che dal 26 di febbraio ci sarà un presidente di tutta la Sardegna. Il tempo della corsa finale, l'ultimo momento di questa campagna elettorale, che per alcuni è stata brevissima, in effetti Truzzo è stato candidato dieci giorni fa, forse non so quanto, cosa farà a tempo a dire alla Sardegna, forse non ha nemmeno tante cose da dire. Io credo che quello che noi dobbiamo porci per convincere le persone a votare, per portarle a parlare dei nostri temi, a condividerle e dirgli che noi non vogliamo vivere in un paesaggio desolato umano, che noi vogliamo essere fieri, forti e vogliamo essere un popolo istruito, vogliamo essere un popolo colto, un popolo che si occupa dei problemi e che si riprende in mano il suo destino, perché è di questo che noi abbiamo bisogno. E' una corsa a quattro, quella per la presidenza della Sardegna. Alessandra Todde, Paolo Truzzo, Renato Suoro e Lucia Chessa si affronteranno il 25 febbraio. Buonasera e bentrovati a tutti voi a questo nuovo approfondimento del TG Plus. Savino Balzano, il nostro opinionista, sempre con me. Buonasera Aurora e un caro saluto a tutti voi. Benvenuta Alessandra Carta, giornalista dell'Unione Sarda. Grazie per essere qui con noi. Grazie a voi per l'invito. Lorenzo Reggiroli, analista dei sondaggi BD Media. Buonasera, grazie per essere qui. Buonasera, grazie a voi. Allora, io vorrei innanzitutto ringraziare Alessandra per essere qui con noi, perché il giornalismo sardo oggi piange la scomparsa di Carlotta Dessi, morta a 35 anni per una malattia e alla famiglia va tutto il nostro cordoglio. Però, tornando a noi, Alessandra, tre settimane dalle regionali, ho letto che in tutta Cagliari si vedono in realtà pochi manifesti elettorali. C'è una certa apatia e disinteresse per i destini del governo della regione. È così? Lo riscontri anche tu? Io non credo che ci sia apatia. Oggi sentivo una candidata che diceva forse abbiamo paura, quindi gli stessi candidati che si stanno mettendo in gioco per governare la Sardegna probabilmente hanno avvertito la disaffezione degli elettori e forse questo sarà il più grande partito delle prossime regionali. Allora, analizziamo i sondaggi di BD Media che è stato il primo sondaggio appunto sul prossimo voto. Lorenzo Reggiloli, partiamo con la grafica che riguarda appunto i candidati. Ti chiedo di spiegarcele e poi la commentiamo insieme. Sì, noi abbiamo svolto questo sondaggio nei giorni scorsi, l'abbiamo presentato l'altro ieri sera, quindi se uno vuole sentire anche la nostra analisi molto dettagliata lo trova anche sul nostro canale YouTube. In ogni caso, secondo la nostra rilevazione, Paolo Truzzo è in questo momento in testa al 46%, segue Alessandra Todde indietro di circa 4 punti, 41,9%, quasi 42%. La corsa sembrerebbe al momento ristretta a questi due candidati, sottolineando sempre che è un sondaggio a tre settimane dal voto, quindi molto può ancora cambiare, guardate anche sotto, affluenza per ora stimata tra il 47 e il 51%, indecisi ancora altissimi al 25%, quindi veramente tutto può ancora cambiare, però al momento Renato Soru è molto staccato all'11,1%, Lucia Chessa ancora di più all'1%, lei poi è sostenuta solo da una singola lista indipendente. Manuel Forcini, in regia chiedo di mostrarci anche la seconda grafica, quella che riguarda la fiducia dei cittadini dei candidati, di nuovo a te Lorenzo. Qui emerge subito che nessun candidato riceve molta fiducia da parte degli elettori, tutti, tuttavia tra i tre principali contendenti, Alessandra Todde è quella che gode di un pochino più di gradimento, 35% degli elettori che dice di avere molta fiducia o abbastanza fiducia nel ex vicepresidente del Movimento 5 Stelle. Renato Soru e Paolo Truzzo sono aspaiati con un gradimento del 31%, da notare anche che Paolo Truzzo è quello che però ha la percentuale più alta di coloro che dichiarano di non avere nessuna fiducia in lui, ma è anche quello, nel numerino che vedete più, tutto a destra, fuori dalla barra, 21%, è quello meno conosciuto, relativamente meno conosciuti, conosciuto tra i tre maggiori pretendenti. Ovviamente la meno conosciuta in assoluto è Lucia Chessa, che non è nota al 43% dei rispondenti. Infatti non abbiamo neanche potuto... ...con una margine in più di miglioramento. Lucia Chessa non è stata inserita neanche nel nostro blog di copertina, perché non ho trovato interventi, insomma, liberi anche da copyright da poter inserire nel nostro blog. Alessandra Carta, cosa ne pensi di questa rilevazione? Ovviamente i sondaggisti fanno il loro mestiere, penso però una cosa per ogni dei tre candidati principali, per ciascuno dei tre candidati principali. Forse la fiducia nella Todde può dipendere dal fatto che lei in Sardegna non ha governato mai. Soru ha fatto il presidente dal 2004 al 2008, il sindaco Truzzo è appunto il sindaco uscente di Cagliari, quindi probabilmente ci sono questi elementi che vanno appunto a incidere sulla performance di Soru e di Truzzo. La Todde invece è totalmente nuova e quindi forse in tempo di antipolitica c'è questa tendenza a premiare il nuovo, in questo caso la nuova. Davino, da alcuni osservatori questo sondaggio di Bidimedia è stato letto come una doccia fredda per la sinistra, il cosiddetto campo largo, che appunto in Sardegna è riuscito a trovare una candidata unica, Alessandra Todde appunto. Ecco, cosa non funziona secondo te? Sebbene come abbiamo visto lo stacco non è poi così grande e come ci ha detto Lorenzo Regiroli, la partita è ancora aperta. Ma allora a me hanno colpito due dati che sono emersi in questa rilevazione, anche se sono da prendere ovviamente con le pinze, ci vuole tempo, c'è la campagna elettorale, tutto può cambiare come giustamente è stato sottolineato. Il primo è il dato della sfiducia nei confronti della politica che emerge, salta gli occhi ed è veramente inquietante perché quando i cittadini nutrono una sfiducia così profonda, qui giustamente noi abbiamo chiamato la slide quanta fiducia hai nei candidati, ma in realtà ciò che emerge è proprio una sfiducia totale e soprattutto le previsioni sull'affluenza che si attestano intorno al 50% sono veramente inquietanti perché denotano definitivamente, anzi ulteriormente, perché l'abbiamo già visto in altre consultazioni, una cesura profondissima tra la politica e i cittadini. A proposito del campo largo di cui mi domandi Aurora, qui torniamo a un aspetto che io molto modestamente ho sottolineato in tante circostanze, in tante analisi che abbiamo fatto che purtroppo o per fortuna, dipende dai punti di vista, hanno ritrovato riscontro. Io non credo nelle ammucchiate. Il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle su tante questioni, tantissime questioni anche radicali, anche profonde, hanno visioni differenti. Ora qualcuno potrebbe dire, sì ok ma se non si mettono assieme non vincono, perché più volte è stato sottolineato questo aspetto, o dinanzi invece ad un centrodestra che riesce a manifestare una certa compattezza. Però pare che la ricetta, anche qualora ci si unisca, non funzioni. Io credo che per Conte l'abbraccio con la Schlein, l'ho detto tante volte e lo ripeto, sia un abbraccio mortale. E se opposizione deve essere, sconfitta deve essere per un po' di tempo, tale che sia, perché gli elettori di queste ammucchiate non si fidano. Alessandra Carta, a proposito di questa visione, differenza di vedute, che è chiara, si vede chiaramente tra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico, sembra appunto messa da parte per quanto riguarda la Sardegna. Cosa è successo? È stato trovato un compromesso? E questo compromesso secondo te può funzionare? Allora, in Sardegna in realtà è successo che la base elettorale non è stata chiamata a esprimersi e questo infatti ha determinato la rottura tra Soru, che è infatti uscito dal PD e ha fondato la coalizione sarda con i Dem e con i 5 Stelle. Una delle accuse che vengono rivolte principalmente al segretario sardo del PD e in qualche modo di essersi venduto al patto che a Roma hanno appunto Stretto, Conte e Schlein. E questa differenza, se si guardano i social, visto che Bolzano è un osservatore attento, la si ritrova continuamente. Cioè c'è la base Dem e la base 5 Stelle che non ha digerito questo patto che sembra elettorale che per ora, visto questo sondaggio, non sta pagando. Il 26 sicuramente avremo la risposta a quanto la mucchiata può funzionare o no. Va detto che in ogni caso i 5 Stelle hanno preso molti voti al PD, quindi io a mucchiata non la vedo. Credo tuttavia che sia un tentativo di battere questi fratelli d'Italia che sono molto forti e che stanno per ora trascinando anche tru su verso una vittoria che certo è ancora tutta da vedere, però tutti gli analisti politici sono concordi nel dire che il candidato del centro-destra si ritrova con la spinta di una Meloni che in questo momento è fortissimo. Ecco, allora ricorderete, ricorderanno i nostri telespettatori, noi già abbiamo parlato delle elezioni regionali della Sardegna perché c'è stato, si è arrivati quasi allo scontro tra Lega e Fratelli d'Italia proprio per la scelta del candidato unitario del centro-destra con la Lega che premeva perché aveva una ricandidatura di Solinas e invece Fratelli d'Italia che portava avanti il suo Paolo Truzzo. E allora andiamo a questo proposito alla terza grafica, la terza rilevazione di Bidimedia che riguarda appunto l'operato di Solinas. Ricorderete che il centro-destra, la Lega, anzi diceva i governatori che hanno governato bene, amministrato bene vanno riconfermati. Lorenzo Regiroli, mi sembra che insomma questo buon governo di Solinas non ci sia poi stato. No, allora io ovviamente non posso giudicare il governo di Cristian Solinas ma lo fanno gli elettori, quelli che rispondono al nostro sondaggio ovviamente e il giudizio è piuttosto negativo, anzi è nettamente negativo perché giudicano positivamente, molto positivamente o positivamente l'operato di Solinas solo il 21% del nostro campione. Colpisce soprattutto il dato all'interno del centro-destra, cioè tra gli elettori del centro-destra solo, per virgolette, il 57% apprezza l'operato di Solinas. Teniamo conto che tra gli elettori della propria coalizione in genere l'apprezzamento sta almeno al 70-80%, il 57% tra gli elettori del centro-destra è un dato veramente brutto verso l'Inas e spiega anche la volontà di parte del centro-destra di cambiare candidato e di trovarne uno che possa almeno ripartire da zero perché un governatore uscente che ha un gradimento del 21% è molto complesso che venga rieletto. Savino, ha fatto bene dunque Fratelli d'Italia a premere affinché fosse truzzo il candidato unitario del centro-destra? Ma sai quando noi guardiamo questi sondaggi c'è sempre quella fettona dei non so che in qualche modo dice ma chissà se si esprimessero questi. In questa rilevazione invece mi pare di vedere che tutti i consultati sono abbastanza netti e decisi nel giudicare il governo del Presidente uscente veramente inadeguato alle esigenze della Regione quindi credo che un cambio di rotta sia importante e mi domando questo accanimento della Lega se fosse davvero nell'interesse della Regione e dei suoi cittadini. Chiediamo ad Alessandra Carta se questo accanimento della Lega era nell'interesse della Regione o nelle dinamiche interne al partito e alla stessa coalizione. Io la penso come Savino credo che fosse una battaglia che Salvini stava combattendo a prescindere per difendere poi il Veneto e quindi il mettere la bandiera su una regione fortissima dove appunto la Lega è leader quindi diciamo che da parte della Lega forse non c'era l'interesse primario di difendere Solinas più che altro c'era la voglia di diciamo così non perdere terreno rispetto ad uno scacchiere nazionale che è molto cambiato con i Fratelli d'Italia primo partito nazionale resta il fatto che dopo che è appunto intervenuta Meloni che ha imposto appunto il sindaco di Cagliari la Lega si è subito adeguata c'è anche un altro elemento nei sondaggi che ogni anno il sole 24 ore fa sui candidati governatore Solinas è stato sempre in fondo alla classifica che era invece sempre guidata da Zaia quindi io credo che Salvini lo sapesse grazie Alessandra Carta dell'Unione Sarda per essere stata qui con noi ti torneremo a disturbare alle domani del voto se ce lo consenti grazie assolutamente disponibile e grazie davvero anche a te Aurora grazie 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 a Lorenzo Regiroli e come sempre a BD Media per i loro sondaggi che condividono con noi del Cusano Media Group grazie grazie Aurora e a tutti i vostri ascoltatori Stavino noi adesso cambiamo radicalmente argomento oggi in provincia di Agrigento una ragazza di 17 anni avrebbe accoltellato il fratello di un anno più piccolo perché faceva troppo rumore con la Playstation ma non è l'unico caso in cui troviamo ai noi adolescenti violenti Lorenzo Capezzuari Ranchi una docente accoltellata un rivale d'amore picchiato una gang che si accanisce su un coetaneo tre episodi almeno hanno riacceso l'attenzione pubblica sul tema della violenza giovanile tre aggressioni distinte che hanno coinvolto loro malgrado minorenni la settimana inizia da Varese dove uno studente di 17 anni colpisce tre volte con un coltello una sua professoressa alle spalle fra le ipotesi la premeditazione per una bocciatura che il giovane imputava proprio alla docente coltellate riferiscono media locali inferte con rabbia e violenza che puntavano secondo alcune letture ad uccidere martedì invece a Pieve Emanuele nel milanese al suono della campanella all'uscita dalle elezioni un rivale d'amore accoltella l'altro spasimante uno appena maggiorenne l'altro di 15 anni e nella mattinata di mercoledì a Padova due ragazzini accerchiati e pestati da una banda di adolescenti gli aggrediti hanno 14 e 16 anni questi tre casi fanno parte di un gruppo molto più ampio sono circa una trentina le aggressioni avvenute all'interno degli istituti comprensivi statali del nostro paese scuole che però non comprendono la violenza nei loro corridoi e il dato cresce nell'anno scolastico 2022-2023 furono 36 i casi in tutto fra aggressioni fisiche e verbali ai docenti e ai presidi perpetrate dagli alunni o dalle loro famiglie verrebbe da dire sono ragazzi e comportamenti del genere fra bullismo e branco sono sempre esistiti tuttavia a colpire sono le violenze che esplodono in questi casi professori schiaffeggiati colpiti dai genitori addirittura a coltelli nelle mani dei giovanissimi questo è il cambiamento che non può lasciare immobili il tutto nella settimana in cui cade il 6 febbraio di ogni anno il safer internet day in un'epoca in cui tutto è a portata di mano o di click immagini violente comprese per questo l'unicef ha lanciato una pubblicazione con alcuni dati relativi al nostro paese in italia circa il 37 per cento dei bambini e giovani sono esposti a messaggi di odio e oltre il 34 per cento sono quelli esposti a immagini cruente e violente così in età di sviluppo il gioco della guerra può trasformarsi in un'aggressione fisica e allora vado a salutare e dare la benvenuta alla professoressa Anna Maria Rufino grazie per essere qui con noi sente? si si la sentiamo bene allora la professoressa Rufino insegna sociologia giuridica della devianza e del mutamento sociale all'università degli studi della campagna Luigi Van Vitelli allora partiamo proprio dalle questioni che riguardano il mutamento della società perché professoressa c'è la sensazione che negli ultimi anni, negli ultimi mesi vi sia un crescendo di comportamenti aggressivi e violenti ad opera di adolescenti ma è davvero così oppure è cambiata appunto la percezione di questi comportamenti e le modalità attraverso cui si esprimono? sicuramente in quest'ultimo anno, negli ultimi due anni c'è stato un aumento della criminalità o della violenza minorile questo sicuramente sicuramente è cambiata molto la società come è cambiata anche la percezione anche se devo dire che diciamo nella norma sono episodi come quelli che sono stati citati poco fa episodi che non lasciano molto il segno nell'immaginario collettivo per due motivi uno perché in genere la narrazione di questi episodi è mera cronaca non vi è mai una vera e propria analisi di quello che è il fenomeno reale e l'altro perché purtroppo ci sono delle concause sicuramente un attivatore di questa violenza minorile sono i social sono le dinamiche perverse e disturbative dei social rispetto a una categoria di soggetti quali sono i minori, quali sono i giovani che purtroppo non si vedono supportati nella loro crescita nella loro interazione con l'altro il coetaneo o l'insegnante la famiglia o il passante non hanno un background diciamo formativo informativo educativo e quindi anche di indirizzo è chiaro che non è un fenomeno di massa questo sicuramente però la dice lunga è il fatto che ci sia una crescita esponenziale della tipologia di violenza e quindi noi ci troviamo di fronte diciamo a una capacità attrattiva di questa violenza che è un modo purtroppo come avviene in tante altre dinamiche per affermare che cosa? qualcosa che viene negato a molte cioè la loro identità un'identità che possa avere un senso nelle dinamiche relazionali che vedo in tutti i settori come sia in famiglia oppure a scuola oppure per strada diciamo che queste espressioni di violenza sono sicuramente il frutto di modelli di imitazione di modelli di stereotipi che accreditano a chi è violento a chi può una capacità che normalmente non gli viene riconosciuti in altri ambiti ma sicuramente è anche una grande grande fragilità emotiva relazionale e soprattutto una fragilità culturale Savino che ne pensi di quello che ha appena detto la professoressa Rufino soprattutto del fatto che paradossalmente poi questi episodi non restano impressi non lasciano il segno ma finiscono diciamo nel mare magnum delle notizie che anche noi che facciamo informazione quotidianamente diamo a chi ci ascolta a chi ci segue Condivido ogni parola e penso che il fenomeno il fenomeno della violenza soprattutto giovanile è vero è enormemente amplificato dai social sia perché in generale nella comunicazione giovanile c'è una qualche decolpevolizzazione diciamo della violenza che spesso è nei testi delle canzoni nei trend ed è in qualche modo diventa cultura diventa socializzazione diventano valori condivisi che poi sono disvalori ovviamente dal nostro punto di vista ma per chi li alimenta diventano valori allora sicuramente credo molto modestamente sia fondamentale un lavoro culturale che metta al centro la persona la dignità della persona la sacralità del valore della vita che oggi viene assurdamente noi abbiamo assistito a un episodio che credo non fosse citato nel servizio qualche giorno fa uno stupro di gruppo a Catania in una zona centrale della città un qualcosa di incredibile però oltre alla prevenzione alla cultura che io credo sia comunque la cosa più importante ci vuole certezza dell'assunzione di responsabilità e anche della pena perché non è pensabile che uno youtuber imbecille a 120 all'ora con un'auto di lusso ammazza un bambino di 5 anni e poi non fa un giorno di galera io credo che questo sia vergognoso per un paese civile sia inadeguato per il bambino che ha perso la vita per la famiglia distrutta per le famiglie distrutte una persona del genere non può non fare un giorno di galera dinanzi ad una tragedia altrimenti noi facciamo passare un messaggio che anche dinanzi ai gesti più incredibili ripeto ammazzare un bambino per una bravata per una prova sui social non ti fai neanche un giorno di galera cioè diamo l'immagine di una società priva di regole e di certezze questo è inaccettabile professoressa Rufino io leggevo che spesso si incolpano i videogame per queste manifestazioni di violenza da parte dei giovani e soprattutto quelli che appunto si incentrano sulla guerra sui combattimenti dall'altro lato c'è chi sostiene che il gioco in ogni sua forma è sempre educativo qual è la sua posizione a proposito? allora i videogame sono la punta di un iceberg non sono diciamo il momento centrale il focus principale da cui partire per analizzare io credo che purtroppo torniamo a quello che dicevamo prima cioè se i giovani categorie fragili di giovani cioè quelli che non hanno prevalentemente un sistema famiglia un sistema sociale un sistema relazionale che garantisce loro un modello di vita e questo dicevamo prima appunto è da ricondurre a un sistema in generale che fa un po' da tutte le parti che è quello educativo quello formativo quello culturale per essere così onnicomprensivi però è chiaro che se queste categorie si trovano poi come unico momento di socializzazione e di comunicazione con il mondo il video il social o il videogioco è chiaro che bambini a quell'età è un'età in cui assorbono alla lettera gli input che vengono dall'esterno e non hanno la capacità critica per un fatto proprio generazionale per un fatto biologico di poter analizzare e discernere perché magari io non ho mai giocato a videogioco però magari ecco se mi metto a giocare a videogioco metto in campo delle capacità analitiche logiche ma questo mi deriva dall'età dall'esperienza che ho fatto dalla cultura che ho e via di seguito un bambino è un bambino che assorbe è come quando diventano dei dipendenti da qualcosa di alimentazione o altro oppure per esempio ci sono delle derive in ambito appunto commerciale e un bambino che già di per sé un gruppo di ragazzini che già di per sé magari non ha appunto una famiglia che ha trasmesso un input educativo un modello di vita adeguato che si ritrova per strada dove sostanzialmente pensa di poter esercitare che cosa? La libertà la libertà di dimostrare la propria potenza e la propria capacità ed è chiaro che un pochino lo assorbe dal videogioco perché è un modello il videogioco è un modello comportamentale a tutti gli effetti come purtroppo poi tante volte le dinamiche irrisolte dal punto di vista interpretativo che noi vediamo nei social sono un'autostrada per queste derive perché loro non possono gestire e dimenarsi all'interno di una comunicazione che molto spesso non ha un senso insomma è in atto una tempesta perfetta ci dice la professoressa Rufino ma noi ne parliamo proprio affinché questi episodi lasciano il segno io ringrazio Anna Maria Rufino docente dell'Università degli Studi della Campania Luigi Van Vitelli per essere stata qui con noi grazie alla prossima grazie a voi a presto arrivederci Davino noi ci vediamo domani grazie Aurora un caro saluto a tutti voi e anche stasera ci lasciamo con la riflessione del nostro vignettista di fiducia il Fedoz la regia è stata di Emanuele Forcina da parte mia una buona serata grazie a tutti grazie a tutti